Ciao ragazzi e ben ritrovati in un nuovissimo video dei cani soldi 23 ragazzi ciao iscrivetevi e lasciate un bel like attivate la campanellina a fuori non costa niente ma a me è importantissimo ragazzi lo scorso episodio ci siamo lasciati che stavamo riscattando i giocatori i nostri giocatori allora ci mancava Gion e Tandrea però Tandrea non sapevamo se riscattarlo attenzione attenzione allora se va a vedere subito quanti milioni ci rimanevano dall'ultima volta ok si abbiamo fatto un po di gestione l'ultima volta quindi ci sono rimasti ci sono arrivati 6 milioni mi pare che già qualcuno se ne doveva dare perfetta perfetta ma non se ne vuole andare effettivamente però se te ne vai ci regali 2 milioni pure lui se ne doveva andare però nessuno se ne vuole andare eh se non se ne vanno le aggiungiamo in qualche contropartita perché proprio è un peccato perché poi se li avrebbero in difesa o li svincoliamo perché poi possiamo giocare iniziamo a fare una oddio che sono tutti fissati calma faccio un po' di azioni salienti adesso stupiamo no vabbè stupiamo e vediamo come va a finire ok inizia la partita eh sì vai iniziamo così attenzione Rodrigo il cross mamma mia ma cosa ha recuperato pala ma in che senso mamma mia che bella scivolata contropiede contropiede addirittura oggi proprio ci vedevo regalare mi dovevo stare zitto mi dovevo stare zitto non so in realtà perché se stiamo giocando il torneo pre partita però vabbè ok 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 calma scarichiamo su chionna passo un passaggio per Ambrosino Ambrosino tiro 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 mamma mia ma oddio no no io ero fortissimo mi sembra eh mi devo stare zitto ma questo mi era tipo lo sapevo lo sapevo cosa ho fatto mi sapevo ho fatto comunque a me o a casa rigore per il catanzaro ma io non li ricordo non riesco a battere questi rigori i maledetti oddio mo ti por la tiro sulle stelle ok calma ok segna calma 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 devo riprendere un attimo l'abitudine l'avevo segnato calma calma grande stop grande uno a uno signori uno a uno occasione di cross per il colo col oddio sto pronunciando pure male vabbè oddio marcate marcate no si mo go 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 calanzaro in contropiede perfetto mamma mia dai sta partita mi pare mi devo stare zitto mi devo stare zitto mo tipo a parto non guardo facendo occasioni ecco prima occasione per loro mo tipo mo tipo non faccio più occasioni le fanno solo loro eh si ma perchè le scivolo ok la parata la parata ok col e lo avevo detto io l'avevo detto che mano mano non tirano più io l'avevo detto no 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 oddio che è successo uno a uno si mi è finita uno a uno partita non equilibrata avanti questa partita era beh 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 era un pochino bruttina però vabbè nel frattempo Gion non mi sta piacendo particolarmi quindi lo potremmo pure portare potrebbe pure tornare a casa non puoi tornare presto no e mi sa dobbia mi uno della primavera vabbè poi me lo vedendo perchè poi me lo svincolo questo me lo svincolo vai perchè è un pellegrino questo poi me lo svincolo beh in realtà me lo posso favorire dopo ma quanto ma ma a parte quanto quanto è quel 53 oh potrebbe essere pure forte ma tipo metto titolare vabbè dai lo posso vabbè dai terzo portiere che non voglio svincolare cioè non ha senso svincolare cioè c'è 17 anni potrebbe pure crescere diventato io non credo però un tratto per acquistare perfetto allora portiere urillo non vogliono passare proprio mi sa vai vai 250 eh ho sbagliato vabbè forse non fa niente raga forse potevo che dico potevo farcela abbassarla un pochino però seppure è buggato quindi perfetto in realtà sono stato io in realtà però vabbè vai dov'è avvertito dovete spingere vabbè trattiamo vero Luca d'Andrea è cruciale cruciale 5 anni perfetto io eravo claus era vediamo quanto sto sbagliando tutto però vede ma dove sto andando mi sto pagando tutto dai 2.000 vediamo facciamoci 3.000 stipendio ora mi pare che scatta pure un belosino mi pare sì pure un belosino dobbiamo scattare un gioco ok abbiamo quasi quindi rispetto sai che io non ce lo teniamo non ha senso spiegare i soldi ok non nulla nulla sì ho sbagliato vabbè ok no l'avevo già riscattato ok vabbè meglio così abbiamo già riscattato meglio meglio ma ne sono io vediamo un attimo chi sono quelli con i contatti con i con i contatti scadenza vabbè pure se rinnoviamo io vabbè io lo lo rinnovo giusto così proprio rinnovo proprio lui diventa il mio titolare sì vabbè che lo rinnovo a fare rinnovo vabbè vabbè sì ma non lo voglio riscattare e riscattarsi no è proprio fai contratti non lo vuoi chiedendolo voglio vende cioè non non ha senso nel frattempo io voglio fare giusto un cambio borelli non mi mette secondo portiere perché non ha senso 60 ah perciò quelli non sarebbero perché abbiamo la rosa corta allora ho capito 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 cosa ci servirebbe tutto in realtà tutto 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 ci servirebbe assolutamente un vice di ambrosino forse uno più forte di stoppa che stoppa lavore favice perché non ha senso oppure uno più giovane abbarcato ok ho sbagliato ci servirebbe prima di tutto un cc un cc un altro cc allora abbiamo ampia scelta però molti sono impressi quindi possiamo prenderli l'anno prossimo se riusciamo ad andare in una serie quindi non voglio prendere dei giocatori troppo forti più che altro sarà una carriera per testare tipo che ne so ci veniamo come vice ambrosino barra vice ambrosino bellingham giù bellingham anzi giù bellingham grey no afena no sto troppo più che altro afena ambrosino abbiamo troppo scelta abbiamo troppo ampia scelta o asimini come vice è perfetto secondo me io voglio sti due voglio sti due secondo me questo qua mi pare che era un 57 però mi sembra che era forte mi sembra allora quanto vogliono sto voglio un attimo capire vedo chi vale in giacuna io capirò un attimo perché vabbè si dai 52 questo deve essere 57 primo acquisto fatto abbiamo costato poco in realtà si sporati così ci sta sta più più che altro ci servirebbe tipo si fa male barra ambrosino stoppa speriamo però non si farlo male vuole pure poco perfetto quant'è 9 euro e ora si è salito almeno di 1 2 euro dai 57 57 ora che possiamo prendere basti 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 sì sto sto un attimo capendo chi potrebbe essere un ottimo giocatore sto un attimo capendo io un attimo capire quale potrebbe essere un ottimo giocatore sto qua secondo me è un pellegrino assurdo potrebbe essere un bebe essere 56 57 posso di chi hanno di chi hanno vabbè vediamo quanto vogliono più che altro credo poco dai no non glielo posso dare non glielo posso dare però lo volevo vende però vabbè io gli offro 400 500 mila dai 60 mila che fai 60 mila euro non è che me ne fregano più di tanto eh però il problema è che stiamo iniziando a finire i soldi oddio stiamo finendo 2 milioni quasi 3 milioni gli stipendi non sono un problema più che altro il cartellino un problema che abbiamo una rosa cortissima il problema ah 61 pensavo che era che era peggio pensavo vedete che piglio proprio il posto del titolare ma quanto costa non so ma perché puoi stare il como vabbè secondo me costa un sacco no non credo sia un attimo idea papetti 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 ci potrebbe servire secondo me papetti è fogliata sicuri seguia nessun terzino vabbè vabbè milioni sette cosa ma io pensavo che costava di meno il bro che costava di più e 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 cercare di risparmiare pochi su ok vediamo se mille sette l'offerta cinque cento eh non abbassano hanno abbassato uno di percentuali di la sola della rivendita ma noi lo speriamo che sia forte secondo me è più forte di miranda secondo me dai si spossa così tanto si dai vabbè casomai miranda facciamo diventare importante vabbè cioè lo facciamo diventare il vice però mi sa di nessuno vabbè facciamo alternare chiamano anche io voglio la claudera però vuole poco di stipendio no mi sa che abbiamo preso una pippa mi sa no mi sa che abbiamo preso una pippa no mi sa che abbiamo preso una pippa 66 come l'ho detto però ha poco stipendio perfetto perfetto l'ho detto lì l'ho faiata volevo volevo prendere faiata volevo prendere volevo faiata che prenderemo subito sperando che costa poco poi dobbiamo forse privarci dobbiamo vendere gli ultimi in ulti brignola beh sì dai io lo do dai secondo me questo qua vale tipo 20.000 euro no vabbè 20.000 euro non credo diciamo 7 o 9 importante può essere che è più di un 65 eh io ho dato 3 anni vabbè 5 anni accettiamo volevo allora non so che vuole poco stipendio allora secondo me ha 64 va bene va bene va bene va bene 63 va benissimo e per ora secondo me va bene per ora per ora andiamo bene per ora vabbè credo che ora se ne possono andare gli altri credo di sì credo che quando lui se ne possa andare allora facciamo un attimo la squadra miranda diventa ma chi è sto granice a bu lo figliata lo mettiamo al posto dentro lui e il nuovo amato al posto diventa ok perfetto beh giusto due riserve però in caso mai prendiamo qualche svingolato perché non è possiamo stare possiamo stare con tantissimi con tantissimi ok venduto per 2 milioni caso mai a gennaio facciamo un po' di mercato perché che colpo lo farei a gennaio perché mi dispiace aver lasciato aspetto a fretta perruca verna la stumbo accettiamola aspetta vero ma era il titolare manco ah ecco no ma vero era lui no 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 vabbè l'abbiamo fatto bene ci siamo ritrovati a prendere stumbo gioco no perfetto allora allora se allora se prendiamo ferma mettiamo figliato però dobbiamo prenderci un ccd un ccd ci serve perché poi non ha senso e molti prendiamo un occhio che costa molto questo questo pietra no io prendo il bucio no aspetta ma tipo da 70 no no ma non credo che ce la facciamo valeva la pena sentare secondo me valeva la pena sentare però vediamo questo mi pare che questo sabbotto diventa minimo minimo 90 se puoi giocare ok vediamo 10 milioni ma non mi ricordo che tipo 60 61 vabbè questo silva vabbè mi pare che lui è un 60 62 non so cosa ho fatto 5 60 eh vabbè è una riserva ma no io so che tipo costa poco eh però forse ho sentito io un po' di esperienza no 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 non 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 90 era una stagione tutti ce l'ho eh io ho 30 mila per lui ho fatto tutto il budget perché perché io dico perché vabbè ci dicono un altro milione quindi non posso fare di un 50 questo è un 62 è un 62 io ho dato 30 mila perché perché vabbè 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 lì siamo silva al posto di verna qua e chi è unico allora gg gg esco ma io devo male partita contro la salernitana lì vabbè vabbè io dico simuliamo calendario simuliamo fino a vabbè io dico di arrivare fino al 26 poi abbiamo seguito per caso ci serve tipo qualcuno non so vabbè per effetti maggiormente prestito di murillo vabbè vabbè caso mai tipo si infortuna il primo portiere che non mi ricordo mi si chiama poi si infortuna Borelli nella partita ti gioca poi murillo ok pronti grazie prima partita prima partita perfetto e questa io farei sempre i momenti club poi cambiere poi giocazione salendi perfetto stupiamo vabbè vediamo prima partita e poi tutti i tifosi pronti a live subito gol magari magari segniamo magari 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 segniamo ok bellezza d'attacco ok ora dobbiamo mettere il pulmino in attacco in attacco in difesa ok se riesco mi chiamano provare sì per fortuna hanno tirato malissimo per fortuna non so neanche io come ho fatto contropiede sì bello bello il contropiede bello sì sì vai Andrea vai Andrea sì ho sbagliato tutto però l'ho presa ma cosa sto facendo cosa sto facendo cosa sto facendo ma perché 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 non è entrata quel pallone per sapere no cioè mi hanno fatto tiri mi sa che loro l'hanno messo meno eh sì l'hanno presa più no 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 please 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 ok fuori gioco fuori gioco avvenire un attacco calma sì però se mi ritrovi sì però se mi metti davanti a quello cosa devo fare però va bene ok penso che di rossa sì ok non so neanche io cosa sto facendo però va bene eh sì però mi ritrovo il pulmino davanti mi ritrovo il pulmino davanti dovrò attivare così perfetto stop stop ambrosino 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 4070 no no piccolino il caranzano calma calma stop calma calma stop calma 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 ok ok sì 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 1 a 0 1 a 0 cadanzaro segna stop segna stop mamma mia che buono 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 ben ben bunny io l'ho detto io l'ho detto io l'ho detto io l'ho detto ha fatto no devo farmi fare il contropiede ok sono di grossa il Venezia calma voglio Siamo tutti in difesa, perfetto. Dai, 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 dai. Beh, 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 beh. Eh sì, sì, ho provato a intercettare il passaggio, ma non ci sono usciti. Venezia, si involta in solidarietà, abbiamo subito un gol? Vabbè, abbiamo un paio vetti, un paio vetti, un paio vetti. Devo provo a farlo, devo provo a farlo. Ok, per fortuna sono riuscito un pochino. Venezia si involte in solitaria un'altra volta, però, è possibile, però. Vabbè, ok, ci scomigalo. Ok? Oddio, guarda questo. Guarda un po', mamma mia, ma chi è questo? Sì, 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 sì. Venezia incontropiede. Calma, calma, calma. Dai. Sì, 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 spazza. Spazza. Mamma mia, ok, però sì, sì. Calcio d'angolo per il Venezia. No, ma, no. No, per favore, no. Aiuto. Buttatevi tutti in porta, per favore. Ok? Sì, 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 mamma mia. Prima vittoria. Prima vittoria con il Catanzaro. Sì, temi tre punti del campionato. Mamma mia, ragazzi. Comunque, questo video termina qua con una vittoria più fine che al Cio Mercato. Non ho provato i nuovi, non so perché, però, vabbè, li proveremo nel prossimo episodio. Rega, stiamo andando velocissimi con gli episodi. Spero che il video vi sia piaciuto. Dai, il vostro calcio con il 1, 2, 3. Iscrivetevi, lasciate like, attivate le rampine del mina. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!